benvenuti in questo nuovissimo video oggi marci proveremo a completare minecraft ma con una piccola particolarità ovvero avremo l'inventario condiviso quindi se io prendo un semino lo prenderà anche marci se lui butta il semino lo butto anche io devo capire una cosa marci se io dovessi morire C'è l'inventario cosa succede vediamo aspetta scopriamo subito a me butto guarda Mi ha rovinato la gag perché non puoi morire da lì sì che posso morire da lì ho fatto appello testato vada così si muore Listo perdiamo tutto per di tutto nella posizione in cui mori tu esatto quindi evitiamo di morire mi raccomando Se pronto iniziare io sono prontissimo No 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 inventare in ordine così cos'è cos'è sta roba così ma tu sei fuori di testa Allora aspetta toglia come cosa stai facendo fammi prende la legna la tua e prendere il cibo ok prendere il subito Ma essere velocissimi oggi marci mi serve il cibo sto parlando di fame ma se mangi tu mangio anch'io No penso che debba mangiare un tutte e due io sto facendo le il pane è sotto prendi tutto barissimo Quante cose abbiamo Le parlate non è che servono molto non cotte però vabbè Qua c'è lì in caso era un golem dove sei hai visto un orgoglio in giro per caso no non l'ho Lì non l'ho vista sulla montagna ma c'è l'auto smelta Teoricamente sì in pratica no però sì c'è marcia già visto la posti lava in lontananza Ma veniva di in caverna vai vai che prende un po di ferro L'armatura condivisa quindi ci basta poco ferro per far tutto a ma alla fine è messo in vetro come volevo io e mi prende in giro Si no perché non avevo inteso male io scusami ma ok bravo meno male così inventare è giusto e vuoi morire sto tizio non muore ma è gigante sta caverna che cavolo sto vedendo Ok abbiamo 8 di ferro marci si è messi molto molto bene adesso io mi sa che faccio subito un secchio se prendi della selce faccio anche l'acciarino Già preso brutto l'ho già preso la selce grande che sei sei un grande va da secchio poi facciamo finte stile e andiamo subito Prendi anche un po di cobblestone per favore ok la ringrazio la ringrazio ma ci vuoi affittare la mia acqua Ma la smetti di rubarmi l'acqua Marci mi serve l'acqua marci mi serve l'acqua per fare il portale Madonna mi da da prendi l'acqua in inventario bravissimo è solo piazzata o perfetto ci siamo quanta acqua c'è adesso si è moltiplicata Prendi giro Allora io non so come sia possibile cosa sto trovando una caverna che è una più grande dell'altra ma ci devi vedere adesso tanto Arriva ma io sono possiamo farci quasi full ferro secondo me In effetti abbiamo 16 ma che ha tutto io adesso facciamo così access per prima roba Poi perciò ne ho altri 8 Marci hai anche dell'armatura adesso addosso Aspetta devo tornare su un attimino che non sono Esatto dopo cogli male intanto Eccomi No zio almeno il cibo non rompere le palle Perché in fondo il cibo perché fai una rotellina ma che una rotellina vieni qua e basta forza capisci niente comunque Come tu non capisci niente come ti permetti Siamo nel nether C'è un bastione a tutti fai il bastione vuoi farti la fortezza io mi sa è marci non avviene troppo il piccolo in ferro perché Anzi ma te ne ho presi dieci pure ho fatto L'irona e mette l'homboots Cominci ad andare verso il bastione ma vado alla fortezza e cerca fortezza qualche parte dopo un po di Cosa per fare il mio fantastico ponte del nether scusa sito che hai usato il ferro Per far l'armatura forse Hai veramente e ci servirebbe anche uno scudo ci servirebbe 76 I pisotti stessi che una fortezza invece proprio in caverna Tornati in caverna per il ferro bro come fare nel loro sono Solicamente se qua c'è bastione da patto opposto Vabbè se c'è parte della posto opposto vado in diagonale vado mai varissimo Più l'altro è difficile arrivare al bastione qua perché proprio dall'altra parte di questo mare di lava si e si e si Ok ci sono questo quasi la fortezza dove cavolo potrebbe essere una fortezza in lontananza che non vedo niente Al 5 di te di trovarla a tutti i costi Allora secondo me se io vado in diagonale io così Ma tu prendi danno se prendo danno io no per futuro no comunque Se noi rompiamo gli gold ingot Ci da direttamente il no se rompiamo le nugget e ci dà lingot Ok cosa è molto buona però Dio trovata ma è di fianco allo spawn dietro il basalt Senti un po' ma riesce a fare una Un po' di fare resistance Anche quella va benissimo No pensavo uno scudo io Anche faccio subito scudo Facciamo così in questo modo Devo prendere un po' di roba Che se no non riesco a salire Rende tutto Eh però li uso anch'io questi blocchi sappilo Eh aspetta un attimo però Devo salire anch'io Eh Marci scusami devo salire Dove ho messo i blocchi è troppati Certo io ho troppati Devo salire Ok sono bastione Ok va bene Mi prendi i blocchi mi servono Mi bastavano così No sono una fortezza io Ok allora L'hai fatto sto scudo Ok grazie Ho fatto scudo Sto rubando l'oro io in questo momento Poi si vede un brutto Sono morto Ok con calma Piglin Pilking Ho già un bravissimo Ho già una Ho già una blaze Io ho tre blocchi d'oro in questo momento Potete già metterlo a scappare Brodi Ma hai tipo nel nether Cioè nel n c'è un arco p Non c'è l'arco p Abbiamo il villaggio Facciamo one cycle Oddio un brutto sto arrivando Chi di tutto Chi di tutto No c'è l'oro qua C'è l'oro qua Non spararmi C'è il quale tu oro Ok C'è l'oro Bella Due blaze Ma c'è l'oro qui sotto Perché non lo prendi Ok bravo l'ho preso Tu dimori invece mi è stancato la vita E' un ammazzato Di altri due non me l'andati Perfetto Non devo dire niente Sei un gufo Marci Non è vero L'abbiamo ammazzato Biffi resistance Così a me non muori Abbiamo Bevi 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 Certo La Baresimo Ok La butto via Ho anche delle frecce In caso se vuoi Sono anche tantissimi stringhe Posso farci tantissimi letti Oh su speed Abba su speed marci E io torno a terra Adesso mi sa Ma se mi servirà bene Devo andare a prendere altro oro giù Quanta gente c'è Chi mi vuole morto qua Purtroppa Lì più di brutti Io come scendo qua No 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 Fitto l'oro Fitto l'oro Fitto l'oro Oddio Questo è un problema Sono una merda Sono una merda No ma è perché dite queste parole brutte Non si dicono Scusami Ho appena ammazzato un wither skeleton Mi ha droppato la testa Come ti ha toppato la testa Mi ha droppato la testa Sto morendo raga Sto morendo Mi ne un brutto davanti Guarda che sto combattendo contro un brutto Oh io Dove lo farci muoio No non morire Non morire Chiuditi 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 No 3 contro 4 contro Usa un ender Per l'uso nender Per le vattene Tranquillo sono circondato Adesso Ho una farm di brutti E di picnic Qua sopra Davanti a me Ne lava Ne lava Ok molto Ne lava Perfetto Ma ci abbiamo anche Uno e un diamante Con protection 4 Perché E i due testi Del wither Dove hai presa seconda E' ammazzato il secondo wither Ma come cavolo Fai avere La fortuna Non so come sia possibile Ok ma dove hai fatto l'ingresso E' sentato dal lato Dal lato Ma non c'è ponte qua bro Come cavolo Dove l'hai fatto Si che l'ho fatto il ponte Il ponte è dritto Ma sul lato non lo vedo Sono Ho fatto il tunnel Ho fatto il pillar Lasciami un po' d'oro Scambia Scambia te Scambia te Ok Lascia un po' d'oro Io lo prendo tu scambi Poi me ne vado via Li trovo il piglin fuori Scambia con loro In questo modo A meno Dividiamo i compiti Ho dovuto usare Ho dovuto usare I blocchi d'oro Come pillar Madonna Sono circondato Dei blocchi Non abbiamo blocchi La fuga La fuga Ok Dove stai marci Te da che parte Abbassione sei Qua dove Di lato Lato qua Ci sono quattro lati Bro Sono di lato Da dove sei arrivato Guarda mi vedi Tu vedi me No Allora come faccio a vederti Vai verso lo spawn Sono lì sopra Arrivo sto arrivando Una marea di ender per Prendile tutte No Soprattutto che arrivi te Tanto sono quattro minuti Che possono resistere Per terra Hai ragione Eccolo ho trovato Era qua Sei lì Sono uscito Sono sul ponte Tu dove sei Sul ponte quale Sul ponte tra un bastone E l'altro Cioè tra il bridge Tra il treasure E la parte alta Devi venire verso Lo stile nether Nether portal Ah proprio lì sei Libro C'era qua un piglin Lo sto prendendo da qua Solo uno Eh sì Tanto ci sono una marea di ender Perla qua Non ti vedo dove sei Qua sopra Qua sopra Come sopra Qua 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 Loco a destra destra Dritto Die girati Piano piano Girati ancora Ecco ti lì Ciao marci Madonna mia Aveva fitto il cibo sai Lo so le vende a perla Dammele tutte Che sono un sacco Scusa arriviamo a 16 Ma ridagli l'oro Ridagli l'oro Che ti ammazzano Qui andiamo via Ne abbiamo 14 Scappiamo Non c'è ponte Non ho finito Ah come si fa il ponte Però non usarlo anche te Ok andiamo Marci C'è dietro i te Marci dietro un pigli Di te le scappa Scappa subito Io ho attaccato un zombie Fai piglin Perché l'hai fatto 12 attaccano tutti adesso Ho 4 di vita Allora dove prendere letti Del villaggio Così faccio one cycle Ma tu non sei capace A farlo Sì che sono capace A farlo Cosa credi Per chi mi hai preso Io faccio anche un'altra cosa Mi prendo un po' di lana Mi servono All'incirca 7-8 letti 8 letti fai 6 dovrebbero bastare Altricamente anche 4 bastano Ma per me no Ma abbiamo tantissimo lana Posso prendere direttamente il legno A sto punto No 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 Prendi i letti tu Questo qui è per il mio cycle Il tuo cycle Che tu non ce la fai Ma cosa Io sì che ce la faccio Cosa credi Ma che poi abbiamo gli stessi letti Marci Quindi dobbiamo A inventare tutti insieme Comunque Anche se vuoi fare il tuo one cycle Eh no infatti Me li crafto dopo Prendi il legno adesso Ok dai andiamo Per questo coso Andiamo Da che parte è E verso il villaggio Marci Vieni verso il villaggio E continua dritto Marci è stato indietro È stato indietro Eh dobbiamo scendere qua Allora Sicuro Eh sì per forza Dove Tu vai lì Io scendo tipo qua Va bene Io scendo qua dai Va bene Ma dividiamoci perfetto La barca Qua è inutile Non so se basta Tutto il piccone però Ti ha buttato la pala Abbiamo due picconi Forse era meglio Che venivi da me Lo sai Perché È perché io sono già sotto Quasi È trovato Bravissimo Eccoci E io vedo se lo zacco Oppure no In caso venimi incontro Marci Ipslet anche io Marci Ok Ho trovato Che culo ho trovato Non sono sicuro Di volertelo dire Vuol dire che hai trovato Marci Ciao Fra Ma siamo insieme Perché non mi aspetti Aspetta non ando a venire Non venire Ho buttato la crank obsidian Mi sa prendila Dove l'ha buttata È la cosa più importante Che ci serviva Dov'è Non c'è Marci Non c'è qua Dove c'è l'ha buttata C'è l'inventario Spero Io entro Se non c'è La crank obsidian Ti picchio Ecco bravissimo Poteva farci un arco Prima no Non mi abbia fatto manco l'arco Sta scendendo Marci Levati Marci devi levati Levati Togli quel letto Che non va bene Forse Io ti odio Tu sei proprio Che fastidio Che mi dai Io non voglio finire questo video Ciao a tutti No come no 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 no